Buonasera, vi ringrazio di essere qui questa sera con noi e vorrei dare un breve benvenuto a Alexander Stille, giornalista e scrittore che vive più in America che in Italia, ma viene molto spesso anche in Italia e che ha un rapporto con l'Italia molto particolare del quale vorrei parlare fra un minuto. Alexander Stille ha studiato a Yale, alla scuola di giornalismo di Columbia University e scrive, come molti di noi sanno, per riviste assai prestigiose negli Stati Uniti come il New Yorker o la New York Review of Books, oltre che per il New York Times. Ha lavorato anche in Italia, la casa editrice Mondadori, è stato anche a Roma per alcuni anni. Per Mondadori ha pubblicato una serie di libri, fra cui cito Uno su mille, che è del 1991, storia di cinque famiglie italiane sotto il fascismo e in particolare l'ultimo libro, La memoria del futuro, che è del 2003 e che ha a che fare col tema di cui ci parlerà oggi. Ha un'attività di saggista e di un saggista che sa unire, diciamo, la tecnica del reportage con l'abilità del narratore e l'ha sviluppata anche in una rivista molto particolare, poco nota in Italia, Correspondence, pubblicata dal Council of Foreign Relations, che è una rivista dove Stille ha pubblicato anche in prima persona delle analisi molto interessanti e anche una su come è cambiato, su come sta cambiando il rapporto nella memoria culturale italiana con il fascismo. Quello che vorrei ricordare di lui in particolare sono due punti. Uno è questo suo sguardo particolarmente acuto sulla realtà italiana. È lo sguardo di uno che ha il grande vantaggio di non vivere in Italia e il vantaggio di conoscerla molto bene. Allora gli viene più facile che a molti di noi accoggersi di cose che da noi accadono e che molto facilmente rischiamo di non vedere. Vorrei citare una sua frase sulla stampa italiana. La stampa italiana appare come molto plurale, ma ad un'ispezione più accurata appare profondamente malata e al di là della diversità ideologica depressivamente monotona. La simbiosi fra stampa e potere politico deriva dallo stretto rapporto tra i proprietari dei maggiori giornali e la classe politica. Ora, questa è un'osservazione molto dura. Credo che forse tanto dura che riesce difficile accettarla. Io temo che sia invece una diagnosi vera e in ogni caso è una diagnosi che è molto più facile da farsi quando si ha questa capacità dello sguardo da vicino e da lontano. In questo libro, La memoria del futuro, che è un libro che ho raccomandato ai miei studenti e che raccomando anche qui a quelli di voi che non lo avessero letto, Alexander Stille ha fatto un'operazione molto sofisticata. Si è recato in una serie di luoghi, molti di questi luoghi sono italiani. Qualcuno di questi luoghi è molto lontano dall'Italia. Per esempio in Cina, ma lì il suo compagno di viaggio era Michele Cordaro, una persona che non solo era un italiano, ma che molti di noi conoscono e di cui sono stati amici. E in luoghi vari, che possono essere l'Egitto, la Cina, gli Stati Uniti, la Biblioteca Vaticana, eccetera, ha constatato come il rapporto fra il presente e il futuro venga variamente cambiato e modificato attraverso la struttura di una biblioteca, il problema degli archivi, attraverso le reazioni davanti alle piramidi o un carmelitano americano che fa dei giri turistici di Roma in lingua latina con un pubblico attentissimo che lo segue. Questo tema, mi sembra, il modo come Stille ha affrontato questo tema, cioè attraverso una serie di medaglioni e di capitoli diversi, ma con in vista un problema molto chiaro, e cioè che cosa sta accadendo della nostra memoria storica, che cosa accade del nostro passato mentre ci muoviamo verso il futuro, mi sembra un tema straordinariamente interessante in un momento in cui siamo obbligati in Italia da eventi politici che ci circondano a riflettere anche sul destino del nostro patrimonio e della nostra cultura, e questa è una delle ragioni per cui siamo contenti di averlo questa sera con noi. Grazie di essere qui. Grazie, professor Settis. Dunque, siccome io sono un giornalista e uno scrittore, ma mi trovo in un luogo di grande cultura accademica, farò una cosa un po' mista, perché in fondo sono, come il professore ha detto, sono un scrittore con grande interesse nella narrativa e darei un'immagine falsa di me stesso se facessi una conferenza puramente adotta, perché non è il mio mestiere. Per cui la conferenza comprende anche alcuni brani di questo libro che danno un'idea migliore dell'approccio che ho preso in questo progetto che è nato con, in realtà, infatti nel periodo in cui ho vissuto in Italia dal 1993 a Roma, in una comunità di studiosi, molti di cui si occupavano del mondo antico o del rinascimento del Medioevo, mentre io mi occupavo di politica italiana contemporanea, manipulite, mafia e cose varie. Però è stata un'esperienza curiosa quella di vivere in questo mondo, perché mentre si occupava di cose contemporanee. E mi faceva venire in mente spesso, c'è un bellissimo racconto di Borges, che è a un certo punto di un soldato barbero che fa parte dell'assedio di Ravenna e mentre scavalca i muri di Ravenna vede la bellezza della città che sta per saccheggiare e salta dall'altra parte e comincia a difendere la città contro i suoi compagni barbari. E quindi, come giornalista del mondo quantebrani che ha cominciato a occuparsi un po' del mondo antico, mi sono identificato un po' in questo soldato barbero. E ho cominciato, in questo periodo in cui ho vissuto a Roma, a riflettere su una serie di problemi che mi sono sembrati importanti di grande attualità. Da una parte vivevo in un luogo dove il passato era presente dappertutto e, d'altra parte, un periodo di enorme cambiamento tecnologico, culturale, che conoscete tutti. Quindi, l'introduzione dell'internet, dei CD-ROM, di tutta una serie di tecnologie informatiche. E ho cominciato a pensare che eravamo in mezzo a una condizione di grande rottura e di cambiamento radicale. che stava, e ho cominciato a percepire una serie di contraddizioni nella nostra situazione culturale. Che, da una parte, avevamo dei mezzi straordinari, come, per esempio, le immagini radar che vengono fatte da satelliti in spazio o delle immagini, dei TAC, che possono essere usate per esaminare le mummie senza aprirle. Ho queste immagini radar che, per esempio, ci danno immagini di cosa sta dietro le sabbie dell'Egitto per darci un'idea della topografia del paese 30.000 anni fa. Però nel mondo in cui viviamo ora una serie di altre forze create dallo sviluppo come il turismo di massa, inquinamento, la tavola dell'acqua in Egitto a causa della Diga Aswan stanno facendo scomparire molto velocemente molti di questi stessi monumenti che sono rimasti intatto per 2, 3, 4 mila anni. Per cui arriviamo a un paradosso che potremmo avere uno Pompei virtuale in cui studenti in Argentina piuttosto che in Australia potrebbero muoversi attorno le case di Pompei, ma la Pompei che conosciamo, secondo molti studiosi che ci hanno lavorato da decenni, sta scomparendo velocemente. molti mi dicono che un terzo, se non 40%, degli affreschi che erano visibili 40 anni fa non si vedono più. E quindi questo paradosso mi è sembrato al centro di molte cose, che mi sembrava anche in un certo senso una metafora per un problema più grande, c'è un problema culturale, che una parte questi nuovi mezzi tecnologici ci danno enormi strumenti per conoscere il passato, per conoscere la storia, ma viviamo in una cultura sempre più proiettata verso il futuro, interessata al presente, dominata da cultura visiva, video, eccetera, meno interessata alla storia, e quindi scompaiono dal curriculum, certamente da molte università americane, obblighe di studiare la storia, di studiare lingue straniere, per cui paradossalmente questo momento della globalizzazione, in cui in teoria dovremmo dipendere ognuno più dalla cultura all'altra, ci sono possibilità di scambio culturale, c'è però molto spesso un'inversione in cui viviamo in un mondo più provinciale, più chiuso, questo è certamente il caso negli Stati Uniti, ma può anche essere il caso anche altrove. e quindi ho cominciato a elaborare i temi di questo libro e come capita spesso quando si lavora su un progetto, si diventa ossessionati e si comincia a vedere il problema dappertutto e si spiega tutto con questa chiave di lettura, quindi ho cominciato a vedere questo problema del futuro e del passato dappertutto, e però per esempio nel mondo della natura, nel mondo dell'ambiente, di nuovo vedevo questo paradosso che da una parte con strumenti come l'analisi genetica delle specie abbiamo delle possibilità veramente da fantascienza per ricostruire gli alberi genealogici di intere specie, di tornare a centinaia di milioni di anni nel passato, di capire esattamente il momento in cui lo scimpanze e l'uomo partono destini, però nel mondo reale dove viviamo le specie scompaiono con rapidità grazie proprio allo sviluppo umano e quindi le stesse pressioni della modernità. È capitato poi che sono stato invitato recentemente a un convegno di biologhi marini che stranamente hanno trovato questo libro e questo biologo marino con cui ho parlato ha detto ma io vedo la stessa cosa che le descrive con i monumenti con le cose che io studio e quindi è come Pompei nell'oceano lui studia le barriere corali della Chiraiave e lui ha detto le cose che io studiavo quando ero uno studente facendo il dottorato non ci sono più metà delle cose che io vedevo non esistono più e quindi questa è la tematica e di nuovo anche lo vedevo nel mondo delle culture uno dei temi cruciali del libro è la globalizzazione e se pensiamo per esempio alle culture tradizionali c'è un capitolo sulla cultura di una piccola isola nella zona di Papua Nuova e Guinea se pensiamo per esempio che nel mondo oggi si parlano circa 600 6500 lingue e si stima che metà di queste lingue non saranno più lingue parlate entro la fine di questo secolo e quindi di nuovo c'è un paradosso di fondo che da una parte molte di queste culture tradizionali che solo 25 o 30 anni fa venivano descritte come società salvagge primitive adesso sono studiate con il massimo rispetto e quindi è un momento in realtà di riscoperti di molte di queste culture però la realtà che viviamo è che queste culture tradizionali sono sotto pressioni che non hanno mai conosciuto nel passato nel mondo in cui tutti portano le scarpe e Nike bevono Coca Cola eccetera eccetera e quindi questo è un po' la tematica del del libro siccome però sono uno scrittore con un forte interesse nella narrativa ho voluto dare un pilio narrativo al problema e trovare per una serie di motivi in parte perché quello che faccio in parte quella è la cosa che mi diverte nel lavoro che faccio e in parte perché trovo che sia un modo per raccontare dei problemi a volte è una sfida interessante per un giornalista interessato l'idea di trovare dei modi per rendere il mondo delle idee in qualche modo accattivante comprensibile a chi non lavora dentro il mondo accademico però credo che abbia anche un altro vantaggio che se avessi scritto questo libro dal mio studio a New York avrei visto il problema in un altro modo avrei forse fatto un libro più schematico il bello e il brutto del lavoro giornalistico è che le tesi che uno inventa davanti al suo computer o nelle biblioteche vengono continuamente cambiate o addirittura capovolte da quello che si trova sul campo e a volte anche succedono delle cose abbastanza curiose e divertenti per esempio mentre lavoravo siccome il primo impulso per questo libro veniva dall'esperienza a Roma e era suscitato da visite a monumenti italiani ho pensato che se quello che vedo a Pompei è vero immagino che la stessa cosa stia succedendo in Egitto dove i monumenti sono ancora più antichi e dove le pressioni della modernità sono forse ancora più drastiche e i mezzi per affrontarla sono più limitati per cui ho cominciato a chiedere in giro a persone che lavorano in Egitto hanno detto è come la situazione è veramente drammatica vada presto perché se no non vede più molte le cose che sono lì da vedere in quel momento si stava lavorando sulla ricostruzione e la conservazione della sfinge e ho cominciato a chiedere in giro nel mondo degli egittologhi chi è l'esperto più incredibile sulla sfinge e sulle piramide e salto fuori diverse volte il nome di un certo Mark Lehner un americano che insegna a Chicago e viva a Boston e sono andato a trovare questo Lehner e poi è venuto fuori nella nostra prima conversazione un fatto molto singolare che lui è andato in Egitto la prima volta da quando era ancora studente come membro di un culto New Age lui veniva da era un prodotto degli anni 60 di un piccolo paese nel Midwest e seguiva un culto di una persona che non conoscevo prima che si chiama Edgar Cayce che era noto come il profetta dormiente era il suo perché lui cadeva in questi trance in cui aveva delle visioni profettiche era cristiano ma credeva nella rincarnazione e in una delle sue vite passate era stato l'altoprette egiziano Rata e nella sua veste dell'altoprette Rata a quanto pare aveva saputo che i monumenti dell'antico Egitto non erano stati costruiti da egiziani come ci insegno i libri ma invece dal popolo di Atlantide è scomparso nel nel fumo della preistoria per cui questo Mark Lehner è andato in Egitto per trovare gli archivi del popolo di Atlantide che i seguacci del signor Casey credono siano sepolti nella pianura di Giza però essendo una persona intelligente e seria a differenza di molti seguacci New Age che fanno un viaggio di tre giorni e poi tornano lui è rimasto per diversi anni ha cominciato a studiare le piramide della Sfinge e lentamente ha capito che tracce del popolo di Atlantide non si trovano in nessuna parte tracce degli antichi egiziani c'erano dappertutto è rimasto ha fatto l'università lì ha studiato archeologia egiziano antico e poi ha fatto il dottorato a Yale diventato un noto egitologo però conoscendo tutte le argomentazioni dei gruppi New Age è la bestia nera dei gruppi New Age perché sa combattere tutti i loro tesi con grande abilità ed è capitato che quando sono andato lì quando poi ha saputo questo è cambiato inevitabilmente il capitolo che volevo scrivere perché non potevo ignorare questa dimensione così affascinante perché in realtà capivo che in realtà era parte della storia che volevo raccontare perché mi è sembrato che per esempio questi culti New Age che hanno avuto una una grossa spinta dalle nuove comunicazioni perché hanno tutti i siti web e queste teorie si stanno propagando a destra a Valle Monte e infatti è capitato che quando siamo andati lì ci sono libri che vendono milioni di copie su queste cose mentre i studi seri sull'Egitto antico vendono centinaia di copie e mentre infatti eravamo a Ghisa praticamente ogni turista che vedevamo parlava di porte segrete di cose strane extraterrestri secondo le varie teorie disponibili e infatti è capitato che dei turisti italiani hanno fermato Lainer mentre eravamo lì lui non poteva scappare dal suo passato New Age perché a un certo punto questi turisti italiani hanno fermato ma lei sarebbe Graham Hancock uno degli autori di questi libri New Age e lei no uno dei suoi critici perché evidentemente aveva visto un video in cui Lainer appariva per due secondi criticando la teoria di questi altri e loro avevano memorizzato la sua faccia e quindi è cominciato un piccolo dibattito molto interessante tra questo commesso viaggiatore di non ricordo quale città italiana e Mark Lainer ma volevo poi leggere un breve brano di questo capitolo ambientato in Egitto che riguarda tra i tanti incontri divertenti che abbiamo avuto era con un vecchio amico di Lainer che era un certo Ahmed il cui il cui non aveva lavorato con gli archeologi francesi e ha saputo quindi indicare a Lainer un punto dove si poteva attualmente entrare dentro la sfinge perché ci sono delle creppe in cui infatti Lainer ha trovato lo stivale di un archeologo francese grazie al nome di questo Ahmed Ahmed adesso guadagna il suo pane portando dei seguaci New Age soprattutto americani mi dispiace dirlo in tour metafesici a Giza e quindi pur non credendo minimamente alle loro teorie e quindi questo brano comincia dopo il nostro incontro con Ahmed il giorno dopo abbiamo incontrato Ahmed nel parcheggio di un albergo lì vicino era fermo accanto a un enorme pullman rosso dotato di aria condizionata con cui svolge i suoi tour metafisici portavano colana di perline con un ciondolo rotondo d'argento bucalerato che faceva venire in mente un colino per filtrare il tè è un amaletto indossato dal gruppo che sto portando in giro ha spiegato Ahmed tutti i membri del gruppo devono metterlo prima di entrare nella grande piramide per essere protetti stiamo per andare dentro a fare tre ore di meditazione e di salmodia nella camera del re i gruppi new age pagano un supplemento per starsene tranquilli dentro la piramide nelle ore in cui normalmente sono chiuse al pubblico mentre eravamo lì a parlare una tipa del gruppo di Ahmed si è avvicinata allo sportello del pullman era una corpulenta ragazza del North Carolina con i pantaloni comodi scarpe da jogging e capelli cotonati se non fosse stato per l'amuletto si sarebbe confusa alla perfezione in mezzo alla foro di un qualsiasi centro commerciale americano sembrava sui 25 anni aveva un viso tondo palido piacevole che sembrava rimasto immune dai segni dell'età e dell'esperienza dove avete preso l'amuletto ha chiesto Lehner li ha fatti giudi e li ha consacrati nel tempio ha risposto la ragazza come se tutti in tutti i continenti conoscessero giudi in che cosa consiste il vostro giro dell'Egitto ho chiesto io beh con il nostro gruppo stiamo lavorando sul corpo ha spiegato lei quindi si parte dai piedi ad Abu Sambel all'estremo sud dell'Egitto e poi risaliamo lungo il corpo andando all'Uxor sa tutti gli shocker che cosa sono gli shocker ho chiesto io sono i chakra una parola hindu ha spiegato Lehner da veterano conoscitore del New Age sono gli organi vitali del corpo i piedi l'inguine il cuore ora siamo in cima all'Egitto alla grande piramide lavoriamo sulla testa ha spiegato la donna del North Carolina tutto consiste nel risvegliare le memorie cellulare nelle diverse parti del corpo c'è per dire un altro gruppo la gente viene portata nella camera del re dentro la piramide e ogni persona deve sdraiarsi nel sarcofago e le viene detto il suo vero nome e in questo modo la memoria cellulare si risveglia che cosa è la memoria cellulare beh non sono molto esperto in tutta questa roba scientifica ha risposto lei dovrebbe parlarne con Pamela lei si che potrebbe spiegarle tutto in termini scientifici dirla che cosa innesca dal punto di vista scientifico e chimico influenzando il corpo e questo è un po' un'idea della di di quella parte della del libro poi sempre a proposito di monumenti dato che il professor Sette si ha menzionato Michele Cordaro che abbiamo ricordato prima con molto affetto un grandissimo personaggio mancato non tanto tempo fa e lì è capitato che mentre stavo parlando su questo argomento infatti uno storico dell'arte italiana mi ha detto se stai lavorando su questa cosa dovresti parlare con Michele Cordaro perché lui sta facendo un progetto singolare in Cina hanno un approccio nei confronti del restauro completamente diverso in cui si rifanno i monumenti si ricostruiscono gli oggetti hanno un senso ciclico del tempo un approccio radicalmente diverso nei confronti di queste cose come in Cina come forse sapete si costruisce moltissimo in legno e tutta l'idea di costruire come abbiamo in Occidente grazie dagli egiziani dagli egizi ai greci ai romani in poi l'idea di costruire grandi monumenti in pietra dura che possono durare per sempre invece in Cina forse con maggior saggezza sanno che niente dura per sempre per cui costruiscono cose che devono per forza essere rifatte in ogni generazione cose in legno confondendo completamente i conservatori europei americani quindi in un certo senso è un approccio molto zen al restauro perché in realtà ogni pezzo è nuovo ma lo spirito del se uno mantiene l'idea e se uno ha la conoscenza dei materiali il monumento rimane in qualche modo intatta tant'è vero che in Ise in Giappone ogni vent'anni l'altare Shintu di Ise viene ritualmente distrutto e rifatto ogni vent'anni questo ha mandato in tilt gli esperti di UNESCO che si rifiutano di considerare l'altare Ise un monumento antico i giapponesi sono molto contrariati da questo perché lo considero un monumento che ha 1300 anni e questo sistema di restauro ha funzionato estremamente bene c'è stata una continuità culturale straordinaria in Cina come sapete per millenni solo che con il cambiamento tecnologico con l'industrializzazione del paese poi i disconvenimenti politici per cui l'instituzione prima di materie che non si conoscevano prima come ferro, acciaio, cemento le tecniche di costruzione sono cambiate si è spezzata questa catena orale di artigiani che passavano da generazione in generazione le loro conoscenze di materiale di pigmenti di legni più due guerre civili più la seconda guerra mondiale più la rivoluzione culturale ha fatto sì che in un spazio di pochissimo tempo queste conoscenze sono scomparse praticamente del tutto per cui se uno adesso va in Cina trova che non ci sono monumenti antichi in pratica è una cosa veramente sconvolgente come viene in Italia non ci sono chiese non ci sono palazzi non ci sono cose nei medioevali rinascimentali non parlare di cose romane e le poche cose che rimangono come la città proibita o il palazzo estivo a Pechino sembrano dei ristoranti cinesi a New York a San Francisco perché sono rifatti talmente maldestramente perché la conoscenza dei materiali proprio non c'è per cui a un certo punto hanno pensato di chiamare l'Istituto Centrale di Restauro qui in Italia e Michele Cordaro è andato a fondare sia una scuola di restauro a Xi'an la città dei guerrieri di Terracotta sia un laboratorio per il restauro e quindi è stata un'esperienza veramente straordinaria quello e purtroppo è finito che dopo un mandato di tre anni i cinesi hanno tenuto la tecnologia e hanno cacciato i restauratori italiani però può darsi che qualcosa di questo è rimasto e volendo occuparmi del problema della natura sono invece andato in India dove ho trovato una situazione molto singolare avevo sentito parlare di un progetto per pulire il fiume Ganges e il personaggio chiave di quel capitolo è un Mahant un leader Hindu della zona ho pensato di leggere un attimo l'inizio di di questo capitolo che dà un'idea di quella realtà tutti i giorni appena sorta l'albra vera badra miscia un brammino con i capelli grigi vestito del tradizionale dot indiano una specie di perizoma scende con passo lento e rigido alla lunga e rapida scalinata che conduce dal suo tempio nella città di Varanasi sulle rive del Ganges come ha fatto quasi ogni giorno per i suoi 58 anni di vita tutto intorno per un tratto di 7 chilometri lungo il fiume dominato da templi palazzi ashram maestuosi e dirocati costruiti sull'argine si dispiega lo spettacolo della vita indiana decine di migliaia di bagnanti si emergono nelle acque del fiume più sacro dell'India da 8 diversi ghat le gradinate per discendere alla riva ascetti con la barba bianca sollevano le braccia ossute per rendere omaggio al dio sole casalingue con sari dai colori vivaci lanciano ghirlande di calendule gialle alla madre gange ragazzi di imperezoma fanno flessioni sulle braccia mettono in mostro i muscoli e si lavano il corpo bambini nudi sguazzano giocando dell'acqua e la famiglia portano i loro morti ai gatti le cremazioni per ardere i cadaveri e sparge le cendere nel fiume la forza di queste tradizioni alcune delle quali salgono a 3.000 anni fa l'epoca in cui fu fondata Varinasi attrae restriamente miscia verso il fiume anche se quando cammina gli fa male un'anca ma ridotto per una frattura di alcuni anni fa ma in questo particolare giorno all'inizio del 1997 un fastidioso raffreddore e la cattiva qualità delle acque lo hanno indotto a restare a riva il fiume inquinato dagli scogli fognari dagli scarichi industriali dai resti carbonizzati dei cadaveri e di carcase anemali di solito Mishra cerca di mergersi 5 volte perché mi ha spiegato 5 è un numero di buon auspicio tuttavia anche quando sta bene tu fa la testa tampandosi il naso e non beve l'acqua del fiume come faceva in passato nel mio cuore sono combattuto mi ha detto desidero compiere le abluzioni sacre ne ho bisogno per vivere senza senza è come se la mia giornata non cominciasse ma allo stesso tempo so che l'acqua del fiume non è pulita so che cosa è BOD so che cosa sono i colibatteri fecali ha aggiunto accennando ad alcuni indici scientifici di inquinamento delle acque per Mishra si tratta di un dilema praticamente difficile a causa della sua doppia identità piuttosto complessa da una parte è il Mahant cioè il capo o il venerabile del tempio di Sankat Moshan uno dei tempi più importanti di Varanasi dall'altra è il titolare della cattedra di ingegneria idraulica della Benares Hindu University essendo un Hindu devoto considera il Gange una dea ma Ganga cioè la madre Ganga la sua origine divina rende il fiume puro in grado di purificare tutti i fedeli che si emergono nelle sue acque il sogno di ogni buon Hindu è quello di visitare Varanasi e bagnarsi nelle acque del Gange almeno una volta nella vita così come i musulmani fanno voto di riaccarsi alla Mecca in tutta l'India molta gente tiene in casa un po' di acqua del Gange da offrire agli dèi o da aggiungere al cibo quando si cucina secondo le tradizioni se una goccia d'acqua del Gange portata dal vento colpisce il viso di una persona a centinaia di chilometri di distanza in grado di purificarla da tutti i peccati della sua vita alla loro morte tutti gli Hindu cercano di fare in modo con le loro cennere vengono disperse nelle acque del Gange e chi muore a Varenasi viene considerato praticamente fortunato perché la sua anima volerà dritta in paradiso ma in veste di scienzato Misha non può ignorare quanto sa a proposito dello stato delle acque del fiume mentre sta seduto a gambe incrociate a pregare sulla riva del Gange nel complesso del tempio alle sue spalle c'è un modello laboratorio dove in incubatrice speciali si allevano colonie di batterie per determinare la presenza di diversi agenti patogeni in vari punti del fiume e la battaglia ingaggiata per depurare il Ganges ha implicazioni assai più profonde del futuro ecologico di un fiume se il Ganges è il simbolo dell'India lo sforzo per riportare la purezza è una verifica significativa delle condizioni del paese a 50 anni della sua indipendenza il cui risultato potrebbe rispondere a molte domande fondamentali sul nostro futuro l'India come altre zone del terzo mondo riuscirà a risolvere i propri problemi oppure scivolerà in un incubo malthusiano nella contesa di risorse naturali sempre più scarse troverà dei sistemi creativi per preservare le sue ricche tradizioni culturali o verrà assorbita nella nuova economia globale gli antichi rituali del paese come l'abluzione nel Gange riusciranno a sopravvivere all'avvento della modernità e Misha dice a un certo punto una frase che mi è rimasta molto impressa che trovo molto significativa per favore considerare le persone che hanno un rapporto diretto con il fiume come una specie a rischio di istinzione non sono a rischio solo gli uccelli e le piante ma anche coloro che professano la mia religione se è possibile salvati gli uccelli e le piante salviamo anche i fedeli dando loro l'acqua sacra e questo mi aveva molto aperto gli occhi sulle connessioni a cui ha accennato prima tra il mondo naturale e il mondo culturale che sono a mio avviso fortemente legati e infatti poi lavorando su questo progetto ho scoperto per esempio che i luoghi di maggior concentrazione di diversità linguistica sono anche i luoghi della più grande diversità biologica penso zone dell'Africa la Melanesia la zona di Papua Nghini eccetera dove ho dedicato un capitolo e lì però lavorando su questo tema ho voluto dedicare un intero capitolo sul problema della biodiversità e il rapporto con la cultura umana ma come avevo detto prima facendo il mestiere giornalistico spesso si è costretto a riconoscere che le cose sono più complicate di quanto non si pensi per cui avevo pensato di fare un capitolo a Madagascar che non conoscendolo minimamente mi affascinava semplicemente come questa grande isola in mezzo all'oceano indiano e del fatto che sapevo semplicemente che avevo tutte queste specie rare 80% delle specie di Madagascar sono uniche cioè non esistono altrove e effettivamente ci sono le problematiche che mi interessava da una parte il lavoro scientifico estremamente interessante su fate sulle specie di Madagascar ma pressioni estremamente forti su l'ambiente prima di lavorare su questa cosa non mi era mai venuto in mente che salvare una foresta di pioggia poteva essere ci poteva essere di male in questo mentre ho scoperto che invece è più complicato avevo scelto un progetto da studiare di cui moltissimi mi hanno parlato molto molto entusiasticamente un progetto in una foresta di pioggia a Madagascar dove si è scoperto una nuova specie di lemore e c'è una biologa americana che ha fatto ricerche ha scoperto sia questa specie di lemore e un'altra specie di lemore che si è pensato era caduta in istinzione e lei è riuscita a convincere il governo americano a donare una quantità di soldi per creare un parco nazionale ha convinto il governo nazionale di Madagascar a donare il terreno e ha lavorato con persone locali per creare dei sistemi che la gente locale poteva beneficiare economicamente dal progetto metà dei fondi generati dai biglietti del parco dovevano andare ai vari villaggi colpiti che vivevano vicino al parco in modo che non soffrissero soltanto che quando ho cominciato ero dentro questo progetto assai ho cominciato a sentire e scoprire altre cose che suggerivano che le cose erano molto più problematiche di quanto non avessi pensato in un primo momento ho cominciato ad intervistare degli antropologhi che hanno vissuto in vari villaggi che erano colpiti dagli effetti della creazione di questo parco che raccontavano delle storie piuttosto allucinanti di persone che morivano di fame che morivano di malattie spaventose perché loro non potevano più andare nel parco è una zona veramente poverissima come quasi tutto Madagascar e quindi in un paese che veramente vive molto molto vicino alla malnutrazione un cambiamento drastico nell'accesso a risorse può avere conseguenze disastrose nella vita di questi villaggi e effettivamente questo era avvenuto e molte delle promesse fatte in questo progetto non erano state mantenute e ho cominciato a capire una dinamica molto importante a mio avviso ho cominciato a sentire la parola colinianismo verde ambientalismo verde per inizialmente ero molto resistente a questo modo di pensare ma devo dire andando lì ho cominciato a capire che molti dei sforzi che facciamo in questa parte del mondo sono estremamente problematiche sono dettate da una volontà missionaria una convinzione di voler salvare il mondo ma di voler salvare delle persone che vivono in questi posti da una sensazione che sappiamo molto meglio di loro come gestire le loro terre il risultato è che molto spesso finiamo nel cacciare delle persone che hanno vissuto in queste zone per centinaia o migliaia di anni dalle loro terre per salvarle per noi stessi o per un'idea astratta naturalmente è ancora più complesso di questo perché i problemi ambientali di queste zone sono anche reali e per cui si scoprono delle dinamiche morali estremamente complesse per raccontare solo uno in questo parco che hanno creato ci sono anche una specie di gambro che non sono neanche perché ho visto che è stato tradotto nell'edizione italiana del libro in realtà la parola inglese è crayfish non so esattamente se esiste in un equivalente italiano l'hanno creato il gambro in realtà è un gambro delle acque dolci del fiume che esiste è una creatura estremamente antica che esiste su vari continenti Nord America Sud America credo Australia esiste in Madagascar ma non esiste in Africa curiosamente per cui i studiosi hanno cominciato a studiare queste specie di gambri di acqua dolce i crayfish che hanno centinaia di milioni di anni e il DNA di questo gambro ha delle informazioni straordinarie che ci permettono di ricostruire i movimenti dei continenti perché se uno si chiede perché mai questo gambro non esiste in Madagascar ma non esiste in Africa ma non esiste in Madagascar è perché Madagascar si è scoperto in realtà era attaccato a Antartica e quindi il DNA di questo gambro su Madagascar assomiglia molto al DNA di quello in Sud America e quindi da questo si ha uno confermo di scontro molto importante della teoria dei ideologi sui movimenti dei continenti per cui c'è un lavoro scientifico di alta qualità di grande interesse nei fiumi di questo parco però è anche vero che la creazione del parco ha creato il cosiddetto turismo verde ha fatto sì che le persone indigene che vivono lì vanno a caccia di queste gambe per dare i ristoranti per i turisti che vengono a visitare il parco per cui impoverendo i fiumi proprio delle stesse specie che dovrebbero proteggere per cui c'è un circolo complicatissimo che si ripete molto spesso in questi progetti in cui qualunque cosa che facciamo sembra che facciamo del male e quindi è un capitolo che a mio avviso comunque ha aiutato me molto a capire la dinamica molto complessa del rapporto tra cultura umana e natura una parte importante e forse l'ultima parte del libro gli ultimi capitoli si occupano molto del rapporto dello status della parola scritta e della parola in genere e esamina ci sono due capitoli su biblioteche e un capitolo sulla cultura orale della Somalia perché come avevo detto all'inizio uno dei grossi cambiamenti che ovviamente stiamo vivendo in questo periodo è il dominio dell'immagine sopra la parola scritta se pensiamo alla alla famosa battuta di Victor Hugo in Notre Dame in cui dice davanti con l'invenzione della stampa guarda i vetri colorati della cattedrale e dice se si tu se l'ha questo ucciderà quello adesso viviamo con la televisione che rischia forse di uccidere la carta stampata il che viene tutto complicato dal computer dall'internet e quindi non sappiamo come finire la storia però fatto sta che viviamo nel regno di Berlusconi dove la televisione conta parecchio e quindi come il primo ministro ci ha ricordato l'altro giorno pochi leghi giornali tutti guardano la televisione e quello che conta e quindi ho voluto esaminare un po' le conseguenze di questo tornando a una società dove la cultura orale è rimasta fortissima infatti di nuovo stranamente le mie esperienze italiane anche se solo 3 o 4 dei capitoli sono ambientati in Italia molti sono stati stimolati da conoscenza italiana e ho finito di fare un pezzo su un capitolo sulla Somalia mentre stavo facendo lavoro su un'altra cosa qui in Italia volevo fare una cosa sulla realtà virtuale le città antiche e sono andato a trovare un psicologo che lavora per una dita informatica a Roma che crea delle realtà virtuali di monumenti antichi e mentre stavo parlando mi ha spiegato della sua carriera e ha spiegato a un certo punto che ha lavorato in un tempo precedente sulla lingua scritta della Somalia come consulente tecnico mi spieghi meglio questo fatto per favore cosa significa che ha lavorato come consulente sulla lingua scritta della Somalia la Somalia prima degli anni 70 non aveva la lingua scritta la lingua somra non è stata scritta perché c'era il colonialismo nel colonialismo c'era l'inglese c'era l'italiano nella parte nord del paese c'era l'inglese nella parte sud l'italiano e la lingua somra non era mai stata scritta poi con l'arrivo di Seat Barre lui decide da buon dittatore che bisogna avere una lingua nazionale e perché in un certo senso forse Seat Barre aveva letto Marshall McLuhan il quale ha spiegato che la lingua scritta è molto legata al nazionalismo alla capacità di unire culturalmente un paese e quindi ha insistito molto su finalmente la creazione della lingua scritta per la Somalia e c'era una storia estremamente interessante in cui a quel punto dovevano chiedersi allora quale alfabeto usare perché la Somalia è un paese islamico per cui i Mullah volevano che l'arabo fosse la lingua la scrittura nazionale c'erano Somali che invece volevano fare una una cosa loro infatti molti hanno inventato degli alfabeti indigeni uno è andato poi c'era un'obiezione ma che cosa facciamo di queste macchine da scrivere che ci sono nel paese lasciateci dagli inglesi e dagli italiani e lui ha inventato una macchina questo Somali ha inventato una macchina da scrivere per dimostrare che la sua scrittura poteva anche adattarsi alle esigenze del mondo moderno però alla fine le macchine da scrivere hanno vinto e Sierbara per una serie di motivi ha votato ha deciso che bisognava usare la lingua la scrittura latina l'alfabeto latino e anche perché l'arabo era poco adatto alla lingua somala perché ha moltissimi vocali suoni vocali credo 22 suoni diversi che per una lingua che non ha vocali come l'arabo diventa assolutamente impossibile e quindi si è fatto questa cosa però la cosa interessante era che poi ha detto allora come è andato questo progetto ma non molto bene perché c'è stato un boomerang tecnologico ha detto perché mentre noi stavamo introducendo la lingua scritta sono arrivate le cassette videocassette a buon mercato che in realtà erano molto più consere alla cultura orale somola per cui tutti mettevano le loro cose sulle cassette e in realtà la storia era un po' più complessa di questo però effettivamente quello che poi ho scoperto era che effettivamente siccome Sierbar ha cercato di usare la scrittura come una forma di controllo politico ha potuto poi controllare i giornali quello che veniva stampato veniva stampato soprattutto propaganda governativa la gente non leggeva invece tutto il dissenso prendeva la forma di poesia orale che era infatti il modo tradizionale insomma di esprimere opinioni e quindi i poeti hanno avuto un ruolo politico straordinario in Somalia come poi ho scoperto e infatti quasi tutte le persone con cui ho parlato compreso molti studiosi somoli che hanno studiato questo fenomeno molti dattano l'inizio della rivoluzione della guerra civile contro Sierbare a un duello poetico che è stato cominciato da due poeti orali uno dei quali è il protagonista centrale di questo capitolo e loro hanno questa tradizione di duelli in realtà duello è forse la parola sbagliata perché è una forma di catena poetica in cui un poeta comincia annuncia un tema usa loro invece di fare le rime usano un sistema in cui si ripete un certo suono una lettera ogni poesia comincia con la lettera e quella lettera viene ripetuta continuamente nella poesia e la sfida per il poeta diventa come introdurre nuove cose usando nuove parole usando questi suoni stando sul tema senza ripetere quello che hanno detto gli altri comunque questi due poeti amici hanno cominciato questa cosa denunciando Sierbare e c'è stata una risposta enorme poeti somori di tutto il mondo hanno cominciato ad aggiungere poesia questa è la catena quindi è cresciuta enormemente Sierbare non ha potuto fermare la diffusione delle cassette mentre arrestavo i poeti le cassette si moltiplicavano e in realtà molti mi hanno spiegato che l'abitudine dei somori del pomeriggio quando è troppo caldo per lavorare tutti prendono vanno nel meffrish della loro casa dove prendono il tè e ascoltavano queste poesie e questi gruppi privati in pratica diventavano delle celle di di resistenze perché discutevano i problemi del giorno ascoltando queste cose e i gruppi militari sono usciti da queste riunioni privati e quindi però quello che è stato interessante la cosa che mi ha interessato nella esperienza in Somalia perché mi sembrava di offrire di suscitare una serie di domande di grande fascino se si poteva effettivamente scavalcare la storia di 5 mila anni di scrittura e saltare direttamente dal mondo postmoderno perché effettivamente quando vai in Somalia sono andato nel 2000 loro per esempio sono saltati subito al telefono cellulare invece di usare le linee normali infatti c'è una concorrenza feroce in questo paese senza governo c'è in realtà competizione infatti sembra un mondo fatto da Ronald Reagan perché c'è concorrenza incredibile ci sono le tariffe più basse per i telefonini in tutta l'Africa pur non avendo governo e servizi tutti improvvisati ci sono ospedali privati perché hanno dovuto improvvisare tutto e tra le altre cose veramente strane è che c'è una popolazione quasi completamente analfabeta per cui anche gli affici pubbliciari sono tutti immagini in giro non vedi scritti e quindi la farmacia ha una specie di quadro una cosa dipinta di uno che dà delle pillole al paziente il posto che vende radio fa vedere radio televisione eccetera eccetera in quattro c'è tutta un'arte della pubblicità lì che è molto curioso e quindi mi è sembrato una specie di esperimento un laboratorio di Marshall McCune in cui si esploveva questo era letteralmente il villaggio globale perché questi erano in comunicazione con altri somoli con per esempio queste cassette dei poeti giravano dappertutto ricevevano siccome la comunità somola e dappertutto perché c'era una diaspora incredibile durante la guerra civile ci sono somoli in tutte le città d'Europa e gli Stati Uniti e infatti loro mandano cassette ho trovato delle cassette di poesia orale e musica fatte in Atlanta a Minneapolis o Amsterdam in questi negozietti in nord della Somalia che è stata una cosa veramente curiosissima però alla fine rimango convinto e persone lì me l'hanno confermato la situazione di Somalia a lungo andare e che credo che abbiano bisogno della scrittura lo stesso se loro vogliono come il problema direi di molti dei paesi del terzo mondo se non vogliono soltanto ricevere la cultura da altre parti del mondo devono avere delle cose che creano che compro gli altri per cui se vogliono dialogare su un livello di parità con altri paesi con perché come diceva una persona che ho intervistato molto interessante ha detto adesso il nome che porta i blue jeans e porta le scarpe fatte porta camicie fatte in Europa o negli Stati Uniti che cosa porta un americano o un italiano fatto in Somalia niente per cui se non vogliamo soltanto portare le cose vostre dobbiamo per forza e quindi c'è questo lì questo paradosso che in un certo senso si devono europeizzare o americanizzare per poter poi resistere alla globalizzazione per cui è un paradosso di cui non credo che si esca d'altra parte quello che poi ho visto che è forse una speranza per finire su una nota più positiva quando ero in India un'immagine che è rimasto molto impressa ero lì al momento del c'era una grande festività del del matrimonio tra Shiva il dio Shiva e Parvati sua sposa Shiva il dio del Ganges perché dai suoi riccioli cadono le acque del Ganges e per cui il matrimonio di Shiva e Parvati è una festa che è come capodanno a Napoli che ho visto recentemente veramente erano pazzi per 24 ore di grande estesia e durante questa festività vedevo molti dei altari a Shiva che sono delle in fondo dei simboli di fertilità che sono dei grandi falli vedevo molte di queste cose truccate con delle luci elettriche pulsanti che pulsavano a musica a Hindi Pop quindi ho detto ma non è possibile stiamo rovinando tutto Varenazzi diventa Las Vegas è tutto finito però poi più osservavo capivo che in realtà per loro aveva un significato radicalmente diverso di quello che aveva per me loro stavano lì molto devotamente davanti a questo altare loro hanno semplicemente appropriato una cosa che piaceva a loro dal nostro mondo però lo usavano per un fine loro e aveva un significato che possiamo soltanto intuire e e quindi credo che quello che quello che vediamo emergendo è una cultura ibrida siamo destinati a una cultura ibrida speriamo che che queste culture soprattutto in un periodo di rapidissimo cambiamento sono sufficientemente robuste per in qualche modo filtrare quello che prendono da noi e da renderlo più in qualche modo renderlo loro e quindi volevo un po' finire lì e forse lasciare un po' di spazio per domande da voi grazie una cosa di cui io avevo voluto sentire parlare era anche il tema del cosa succede rispetto a questo paradosso culturale tra quello che si perde e quello che si recupera in tecnologia che cosa succede proprio con la l'informatica internet questo dove dove beh quello è è assai complicato invece c'è un capitolo che ho fatto sugli archivi nazionali a Washington e lì c'è una situazione curiosissima in cui da quando come si sa c'è qualcuno ha perfino un archivista geniale ha fatto creato una specie di di tabella in cui ci sono due linee che vanno così in direzione opposta in cui le tecnologie di informatica più antiche come le tavole di mesopotamiche su cui sono i primi scritti della mesopotamia antica durano migliaia di anni però contengono poca informazione più informazione contiene sulla media che usi meno dura per cui si arrivano a questi dei dischi in cui sono concentrati le biblioteche intere però c'è il rischio che durano dieci quindici anni vent'anni per cui per gli archivi diventa una parte c'è questa esplosione di informazioni in cui rischiamo veramente di perderci in dati infiniti è molto divertente per esempio come ho fatto di visitare quando visito gli archivi sui record del congresso americano nei primi anni gli atti del congresso si contenevano su uno scaffale poi due scaffali poi un intero muro poi edifici interi per cui c'è questa cosa per esempio hanno contatto il numero di documenti generati da ogni presidenza degli Stati Uniti e si comincia ad arrivare alle cifre assolutamente proporzionali per cui uno dei risultati involontari della cosa è che per esempio il lavoro del biografo diventa infatti i biografi di ultimi presenti americani staranno diventando elementi lunghe che nessuno li può leggere il biografo di Lyndon Johnson è a lavoro da 30 anni ha prodotto 6 volumi ognuno di 1000 pagine e non so dove finiremo perché la quantità di cose che lui deve vedere mentre se parli di George Washington è molto più semplice e quindi si ha questo stannissimo paradosso che abbiamo troppe informazioni su certe cose il risultato però è che quando poi si va dalla carta al digitale c'è anche un altro rischio che in realtà rischiamo anche di perdere tantissimo perché si genera talmente tanto che se non coppi tutto in continuazione con macchine nuove e media nuove rischi di perdere tutto e ci sono delle cose sono comici o tragici che ho scoperto di archivi nazionali in cui da quando è entrato in vigore il computer c'erano ogni dipartamento del governo americano aveva questi enormi computer che occupavano stanze in terre negli anni 60 generavano quantità di dati però esistevano magari due macchine e se tu non leggevi quei dati su quelle macchine erano illegibili per cui si fermava la macchina si perdevano tutti i dati e la legislazione americana è che i dipartimenti del governo devono dare i loro dati agli archivi dopo 30 anni per cui sono cominciate ad arrivare queste cose nessuno poteva leggere i dati c'era un pandimonio totale e per di più nell'epoca più recente per una questione politica ai tempi del credo Iran Contra il congresso stabilì che bisogna tenere tutti i mail i messaggi elettronici della Casa Bianca la quantità di questi erano infinite però a quel punto gli archivi non abbiamo non ci fidiamo dei mezzi elettronici perché è difficile preservarli per cui hanno dovuto cominciare a stampare tutti gli email e quindi fiumi di carta non finire il numero di messaggi si contano i milioni e i milioni e quindi hanno dei problemi assolutamente ilari ma anche difficili perché veramente per se uno pensa siccome la dinamica dell'industria informatica è esattamente l'opposta della dinamica del lavoro dell'archivista si rischia uno scontro frontale perché l'informatica è generata dal desiderio di vendere più macchine per cui l'obsolescenza è parte dell'industria per cui vuoi che tutti comprano nuovi computer ogni tre anni introduci sempre formati più piccoli più sofisticati per tenere i dati e fa sì che ognuno di noi probabilmente ha dei computer che ha dei mezzi che in fondo non sono più in commercio per cui se non hai trasferito i dati da nuove macchine le cose sono inutilizzabili per cui ognuno può pensare a lettere di famiglie che sono scritte da nonni o bisnonni che si trovano in qualche baule se troviamo se i nostri nipoti trovano dei CD-ROM che abbiamo generato o dei dischetti non avranno assolutamente niente per cui diventa un problema per la conservazione della coscienza una cosa molto seria e con l'internet avevo letto l'altro giorno uno studio molto interessante sui studi perché nel mondo accademico come sapete meglio di me ci sono moltissimi giornali scientifici che adesso hanno soltanto un'esistenza virtuale e in un studio qualcuno ha studiato una serie di paper scientifici un percentuale molto alto sopra il 50% dei siti citati negli articoli esaminati non esistevano più perché creare un sito non significa che esisterà per sempre il fatto che qualcuno l'ha creato qualcuno deve mantenerlo ci sono dei costi c'è anche un'esistenza fisica dentro il computer di qualcuno che deve dedicare dello spazio e mantenere il sito se questo non avviene scompare per cui diventa un problema piuttosto spinoso questo perché da una parte le biblioteche non hanno più soldi per comprare tutti i giornali cartacci d'altra parte i giornali virtuali hanno questi problemi qua che vogliamo basarsi su delle informazioni solide che ognuno può controllare se questo non è possibile a quel punto non abbiamo più i piedi per terra quando facciamo studi scientifici o storici e quindi in un certo senso si spera che dopo questo periodo perché se pensiamo ai 50 anni dopo l'invenzione della stampa c'è un periodo lungo in cui la tecnologia doveva sedimentare si spera che si sedimenti a un certo punto e ci sono dei formati che sono universali però non siamo certamente a questo punto e quindi il paradosso è che questa generazione nostra sarà quella che ha prodotto più informazioni di tutte le generazioni precedenti messe insieme ma perderà altrettanto sicuramente perderà più informazioni di tutte le altre per cui il risultato è che secondo me dico in questo capitolo che paradossalmente siamo orfornati ai tempi di di Sofocle e Euripide nel senso che nel mondo antico le scelte venivano fatte per caso i testi che erano copiati di più o che per caso trovati qua erano quelli che abbiamo lì all'archivio di Washington mi spiegano che se uno studioso chiede un certo documento digitale viene copiato e messo su un medium nuovo se non c'era richiesta per forza queste cose maciscono perché la quantità è tale che non riescono fisicamente a trasferire tutti questi dati su nuovi formati e quindi non credo che negli archivi del departamento di difesa si perderanno le tragedie di Sofocle ma però sarebbe forse meglio se non le scelte della storia non avvenisse puramente per caso e questo è un po' quello che sta avvenendo prego con una domanda che vuole essere in fondo una provocazione un viaggio negli Stati Uniti alla ricerca della memoria storica collettiva di questa di questa cultura dove l'avrebbe portata e che cosa avrebbe ricavato in giro per gli Stati Uniti piuttosto che per l'America propriamente in Italia beh ci sarebbe da fare molto e mi dispiace perché la cosa è che come avevo detto nel discorso quando diventi ossessionato un argomento lo vedi dappertutto per cui in realtà avrei potuto fare cento capitoli e per non uccidere il popolettore ne ho fatto soltanto dodici ma negli Stati Uniti ci sarebbero moltissimi da fare penso c'è uno quello sugli archivi di cui ho appena parlato ma altri che secondo me sarebbero di grande interesse per esempio è una cosa che forse farò se riesco sul perché pur avendo una storia ufficiale relativamente breve naturalmente gli esseri umani sono stati nel continente del Nord America da un po' di tempo una delle cose interessanti è per esempio chi sono stati i primi americani e quindi c'è per esempio una battaglia molto interessante su hanno trovato nelle ghiacci non mi ricordo nella parte Nord ovest era Oregon o Washington questo cadavere il cosiddetto uomo Kennewick e c'è stata una battaglia ferocissima sul diritto su questo cadavere perché da una parte abbiamo una legge apparentemente illuminata che secondo cui i resti e gli artefatti di popoli indigeni appartengono a quei popoli e quindi non devono tornare a quei popoli per cui molti oggetti dei nostri musei stanno tornando naturalmente stiamo parlando di migliaia di oggetti che erano oggetti di culto di gruppi indigeni americani stanno tornando quando questi popoli possono dimostrare che c'è una catena di continuità culturale tra loro e i loro antenati questi oggetti tornano quindi dei gruppi locali indigeni hanno rivendicato questo cadavere come uno di loro prima che la corte avesse riconosciuto questo un archeologo credo abbia preso qualcosa del DNA di questa figura ha cominciato a lavorarci sopra il DNA non assomiglia molto al DNA del gruppo indigeno della zona che è ancora lì però non assomiglia moltissimo e neanche il DNA di molti altri credo che da quello che ho capito io assomiglio più a una minoranza giapponese di cui sappiamo abbastanza poco comunque quello che in ogni caso viene fuori è che la storia dei movimenti dei popoli indigeni in America è assai più complicata da quello che abbiamo imparato sui libri di storia su il grande flusso migratorio che passava per i stretti di Bering forse c'erano più flussi migratori forse adesso c'erano anche quelli che arrivavano in barca e c'è perfino uno studioso che sostiene che venivano dall'Europa poi ci sono di mezzo dei gruppi di estremisti di destra che hanno sono convinto che era una nazione ariana ai tempi della preistoria comunque subentrano tutta una serie di cose di cultura contemporanea politica contemporanea con tecnologia con con il problema di ricostruire il passato e quello sarebbe una cosa che mi affascinerebbe moltissimo fare altra cosa che ignoravo siccome ho una cultura musicale pressoché zero avevo completamente ignorato un'altra cosa che invece quando il libro è uscito in inglese ho ricevuto una lettera molto interessante da una persona che dirige il programma musicale di Lincoln Center il centro musicale di New York dove c'è l'opera e la filarmonica e lei mi ha detto la problematica che lei espone nel suo libro è di grande rivalanza per la musica e se vuole parlarne se potrebbe venire a trovarmi parliamone io sono andato a trovarlo perché ero molto curioso inizialmente non capivo come si applicasse alla musica invece mi ha spiegato delle cose che in realtà poi mi sono sembrate ovvie per esempio che la la meccanizzazione della della musica quindi l'incisione su i dischi della musica hanno totalmente cambiato come si fa la musica nel senso che prima di questo se tu volevi ascoltare la musica dovevi fare la musica quindi era tutto musica viva per cui ognuno dalle famiglie borghese che facevano studiare il pianoforte e tutte le loro figlie ai famiglie contadine che provavano orgoglio nella capacità di cantare o di suonare uno strumento praticamente tutti facevano sapevano fare qualcosa perché la gente ama la musica e se dovevo sentire dovevo sentirla vivo per cui la realizzazione della musica ha fatto questa cosa doppia che da una parte era una cosa molto democratica che ha portato i grandi musicisti del mondo nelle case di tutti però ha fatto scomparire la capacità di fare musica quindi cambiando moltissimo il rapporto con la musica altra cosa che lei ha suggerito che secondo me è molto interessante che lei sostiene che se vai a guardare i programmi di musica all'inizio del novecento se penso all'Italia che ancora all'inizio del novecento c'erano persone come Puccini i programmi delle grandi orchestre erano fatte di 80% di musica contemporanea stranamente secondo lei la sua teoria è questa che i dischi hanno reso il pubblico di musica nostalgico si va al concerto per sentire le musiche che si conosce e si diventa perplessi se hai musiche che non conosci perché ti affezioni a certi grandi compositori e quindi vai al concerto e vuoi sentire Bach e Mozart e Beethoven e secondo lei questo ha completamente cambiato il modo in cui le orchestre i programmi delle grandi orchestre per cui mi è sembrato un altro filone estremamente interessante da esplorare che non mi è venuto in mente perché non sono molto portato alla musica però l'ho trovato molto affascinante poi ci sono veramente come dico vedo questo problema dappertutto nel senso se uno pensa agli archivi dei giornali quello che resta di tutta la carta stampata perché tutte le biblioteche stanno cambiando dall'oggetto fisico del giornale a una forma digitale o microfilm ci sono mille di archivi fotografici per esempio c'è un progetto incredibile in cui hanno dovuto per esempio uno dei grandi studi fotografici credo la Beckman Archives o era un altro non avevano più spazio dove mettere tutti i negativi dei loro archivi perché fisicamente non ci stavano più hanno dovuto credo comprare una vecchia miniere di carbone e hanno messo tutto dentro questa questa caverna per cui l'idea era di digitare i negativi o digitare i negativi più richiesti perché gli archivi naturalmente vivono su richieste che vengono fatte da giornali libri eccetera per cui mettiamo che ci sono 15.000 immagini che sono le più richieste facciamo copie digitali di quelle le altre le mettiamo in questo bunker sotto terra per cui in teoria potremmo avere accesso ma in realtà nessuno ci va e quindi gli archivi sono messi in confronto con queste scelte molto difficili più credo che Bill Gates di Microsoft abbia comprato gli archivi di molti di questi studi fotografici per cui diventa un altro problema perché di nuovo c'è il controllo di un singolo soggetto molto forte che può condizionare il modo in cui abbiamo accesso al passato fotografico per cui ci sono moltissimi filoni che non ho seguito e che meriterebbero senz'altro di seguire però se le ha altri suggerimenti su cosa dovrebbe fare gli Stati Uniti sono estremamente interessato prego Il problema che ci ha posto è il potere tramandare attraverso generazioni Il problema che ci ha posto è la possibilità di tramandare dalle generazioni future tutto il contenuto anche della nostra arte della nostra scienza tutto il dato della nostra civiltà è una cosa direi molto impegnativa del resto anche per il passato questa cosa è accaduta come diceva giustamente e basterebbe pensare il disastro dell'incendio della biblioteca d'Alessandria d'Egitto che è stata una grande perdita penso per l'umanità e una delle cose che si potrebbero prospettare per esempio è non dico l'obbligo ma per certe determinate cose che vengono messe in archivio magari in un archivio moderno quindi digitale eccetera proprio per evitare di perdere da parte delle generazioni future il messaggio contenuto in questo è quasi direi l'obbligo attraverso un passaggio una ritrascrizione del contenuto di quello che è stato cioè un aggiornamento continuo da parte museale ecco capisco che sono grosse spese però insomma in senso prospettico sarebbe penso un bel lavoro per la cultura del futuro no ma ci sono alcuni progetti di grande interesse soltanto che per esempio la biblioteca del congresso degli Stati Uniti è la nostra più grande biblioteca è un budget devo dire formidabile adesso ho dimenticato la cifra per il contenuto del libro e hanno per esempio centinaia di impiegati in tutto il mondo che raccolgono giornali delle cose è abbastanza impressionante solo che naturalmente avrà sicuramente una serie di priorità che sono dalla cultura americana per cui mentre è molto internazionale inevitabilmente rifletteranno i nostri interessi i nostri valori eccetera eccetera infatti c'è un capitolo del libro che è proprio sulla biblioteca di Alessandria sia quella antica che è una nuova biblioteca che si è costruita in questi ultimi anni ad Alessandria loro avevano l'idea che in teoria è molto bella di fare una cosa simile nel mondo attuale soltanto che Alessandria oggi non è Alessandria dei Tolomei non ha gli stessi mezzi non è nel centro del mondo e purtroppo hanno anche perso qualcosa dell'idea di come fare cultura ho letto recentemente mi è molto rattristito che il nuovo direttore della biblioteca di Alessandria ha messo in allestimento una mostra sui protocolli dei savi di Sion per cui non andiamo molto bene nella biblioteca di Alessandria per cui preservare un falso non era però una mostra storica critica si potrebbe venire a fare una cosa sulla storia dei protocolli dei savi di Sion ma sapendo cosa sono e infatti lì purtroppo in parte del mondo le esigenze della politica contemporanea sono tali che e questo credo che sia una grande ragione per cui mi è interessato questo progetto per cui ho dedicato un capitolo a quello dimostrava come la politica contemporanea rende molto difficile questo tipo di operazione che lei ha accenato c'era per esempio questo era un progetto unesco inizialmente infatti c'era un direttore italiano che doveva gestire insieme a un direttore egiziano il progetto e lui a un certo punto questo dirigente italiano mi ha detto io a un certo punto ho proposto che si fecesse uno scambio culturale con Israele che si portavano dei rotoli del mar morto sarebbe molto interessante lì in Egitto poi ci sono i manoscritti della biblioteca di Hagamadi si potrebbe una grande cosa su archeologia biblica eccetera eccetera e gli ha detto ma vada fatti tuoi alle mostre alla politica ci pensiamo noi fare una cosa con Israele lasciamo perdere e quindi purtroppo quando la cosa in fondo che ho capito in questo sei se non hai un'idea di cos'è una cultura libera non puoi fare una grande biblioteca e quindi i tolomei nel loro modo erano avidi di cultura se possiamo credere le fonti antiche che fermavano tutte le barche per copiare i manoscritti prendevano inganno i poveri attinesi rubandoli le biblioteche quando potevano e tutto quanto erano interessati a tutte le culture del momento mentre in questo momento il governo egiziano ha altre priorità e quindi la biblioteca che si costruisce sarà credo un'ombra di quello che dovrebbe essere e questo è un peccato perché la cosa di cui si rendono conto molte persone dentro quel mondo è che i grandi centri culturali che si possono fare qui in Europa o che faremo negli Stati Uniti saranno diversi teneranno decideranno che le cose che devono restare sono diverse di quelle che dovrebbero restare per loro e quindi rischiano in un certo senso di non avere più una voce nel futuro come dovrebbero avere e quindi questo credo che sia proprio grave perché come non mi ricordo chi l'abbia detto che si lotta per controllo del passato per controllare il futuro e quindi credo che sia un po' così un discorso verso quanto è veloce l'evoluzione della memoria storica di situazioni di culture è avevo accennato all'inizio ma poi non è più venuto fuori come come vede l'evoluzione della memoria storica del fascismo e della resistenza in Italia visto da fuori beh infatti l'aveva accennato professor Settis perché io non l'ho trattato dentro questo libro ma l'avevo trattato questo argomento in un paio di articoli che ho scritto per la stampa americana anche lì chiaramente come sapete tutti il grande problema è che la storia è sempre ostaggio a del presente e quindi è chiaro che c'è stata tutta un'evoluzione in cui in un primo momento si è voluta la storia diventata la storia dei vincitori per cui c'era una storia resistenziale in cui bisognava forse empezzare molto resistenza per in qualche modo riscattare l'Italia dopo il trauma della sconfitta del fascismo poi tutte le vicende dei felici che conoscete poi la cosa che vedo e che trovo difficile infatti il mio primo libro è stato ambientato in un periodo fascista quindi e poi sono tornato recentemente alla storia del fascismo per cui è una cosa che è molto nella mia mente è chiaro che c'era purtroppo l'operazione del tutto comprensibile di revisione della storia non revisionismo ma la storia ovviamente viene revisionata a continuazione in qualche modo si è legata a una serie di processi politici necessari era chiaro che in un certo senso con che lo sdoganamento del MSI in allianzionale non poteva avvenire in un contesto in cui il fascismo era visto come il male assoluto non era concepibile per cui in realtà una visione più sfumata e più complessa del fascismo che sarebbe stata credo benvenuto si è complicato con queste esigenze politiche per in un certo senso adesso vediamo delle cose abbastanza brutte direi di quello di rovesciare tutto allora di far dei partigiani dei delinquenti dei seguaci della Repubblica di Solò in Eroi Nazionale con contributi che sapete di persone come Luciano Violante che fanno delle dichiarazioni abbastanza approssimative sulla base di poca conoscenza e quindi risultato sono queste una visione estremamente semplicista che francamente preoccupante che poi le spie di cui sono delle cose come le dichiarazioni di queste state di Berlusconi sui vittime di fascismo mandate in vacanza eccetera eccetera però queste cose uno può dire beh è un politico non significa di storia non significa niente però quando poi si sente raccontare le stesse cose dal parrucchiere piuttosto che dal personal bar si capisce che in realtà tutta questa operazione cominciata negli anni 70 ha veramente si è diffusa credo molto nel paese e questo mi preoccupa perché in un certo senso per l'operazione direi incompleta forse Fini lo sta portando oltre questo punto ma la cosa che io ho sempre incontrato quando ho intervistato esponenti di Alianza Nazionale era un po' questa visione del fascismo che il fascismo era una cosa buona fino a 38 poi l'Allianza con Hitler era un errore le legislazionali erano un errore e quindi il fascismo si è deviato dal suo percorso giusto e è diventato qualcos'altro e questo è chiaramente una tesi a mio avviso storica e sbagliata perché non va al luce della cosa se non vedi che queste cose potevano avvenire proprio per mancanza di libertà che c'era quindi mancanza di dibattito e anche la forte spinta se si torna a leggere il famoso articolo di Mussolini Gentile nell'angiveria italiana in cui dice fascismo uguale imperialismo uguale guerra non puoi a quel punto separare e dire che l'imperialismo e la guerra era un'improvvisazione che ha portato fascismo dove non voleva andare e quindi mi preoccupo il fatto che si riscrive la storia in questo modo in qualche modo consolatorio è a mio avviso privo di fondamento storico e quindi questo si mi preoccupo perché lo vediamo io adesso che sto lavorando di nuovo sulla politica attuale ho fatto l'abitudine di leggere una gamma abbastanza larga di giornali tra cui Libero e il giornale e vedo in continuazione il numero di articoli storici è impressionante perché diventa una cosa ossessiva che loro devono rifare la storia per poter fare quello che vogliono fare oggi se non riescono a far diventare dei criminali dei partigiani o dei complici tutti gli altri che hanno coperto il diritto dai foibi piuttosto che il triangolo rosso piuttosto che non possono poi operare nel presente come vogliono per cui è chiaramente una cosa a cui tengono moltissimo perché il numero di articoli è abbastanza impressionante mentre in realtà una visione più serena della cosa potrebbe far sì che una persona come i fini potrebbe benissimo creare un partito di destra e potremmo fare un dibattito serio su cosa è stato il fascismo senza criminalizzare lui e quindi forse questo anche porterebbe a dei programmi nel presente più più ecologi più interessanti so sì io sento mi incuriosirebbe perché mi dispiace che lei abbia ammesso forse troppo modestia di non saperne abbastanza ma mi risulta che l'Italia siamo i paesi di coda nell'educazione di base la musica scusi sembro forse pedante ma è davvero la prima forma di cultura di tradizione ancora prima di quella orale da forse l'Africa che lei avrà visitato quanto ci vediamo sempre magari la tv il tam tam ma tutto ma anche immagianti per dire abuti c'è anche qualcuno più a Pisa che l'ha studiato eccetera tutto ritmico quindi anche poi la poesia greca è sempre ritmica non a caso Omero i primissimi versi dell'Iliade io la ricordo su Laura nel Monti ma lo sa meglio di me anche in greco è veramente musa come arte del ritmo e della nota Omero si dice era veramente uno che cantava allora in questo senso le sembra o no che l'Italia purtroppo sia un po' il lumicino di coda di questa cultura quando invece dopo la Grecia in occidente è la patria ancora Mozart l'ha fatto vedere Piero Angela abbastanza bene veniva Mozart non esattamente uno qualsiasi veniva ancora a fine settecento in Italia ad imparare a leggere la musica Stravinsky veniva per dire mi ha colpito anche questo perché è innovatore a imparare cosa aveva fatto un certo Giovanni Battista Pergolesi in quelli Portici Napoli eccetera per imparare anche lui quando faceva Pulcinella Stravinsky non in massimo forse Prokofiev ma insomma siamo matti in Italia non c'è una sensazione di cultura attenzione non che io faccio musica e mi diverto a fare rock no come si impara Pascoli ma si impara anche Dante non perché io voglio fare da grande il poeta o il narratore eccetera o anche semplicemente proprio i giornalisti ma ecco non c'è questa sensazione lei non sembra che anche negli Stati Uniti o in altri paesi in Germania in Inghilterra ce ne sia di più di equazione di base della musica come prima forma in tutte o mi dicerei se sbaglio in tutte le culture di trasmissione della cultura mi scusi no ma beh se faccio questa cosa sulla musica verrò prima da lei a imparare alcune cose perché sulla cultura musicale in Italia so relativamente poco però quello che si potrebbe dire che è interessante è che paradossalmente come avviene in molti di questi casi che ho studiato le cose erano strano modo di tornare all'inizio perché un altro sviluppo che è successo negli ultimi anni è che con l'internet è il cosiddetto file swapping in cui possono distribuire musica facilmente via internet in realtà rischia o forse non è un rischio di riportare le cose dal vivo perché da una parte se i musicisti non riescono a farsi pagare per le loro musiche devono suonare di nuovo devono fare concerti e suonare nel vivo per cui ci sono delle possibilità estremamente dei scenari ipotetici curiosi che potrebbero venire fuori da questa storia naturalmente spero che questo non succeda con i diritti autori di libri altrimenti sarò io a cantare nella piazza come Omero però chiaramente molte cose sono di nuovo in gioco con le nuove tecnologie che portano in direzione che appena vediamo per cui in un certo senso attraverso la tecnologia la musica popolare è anche esplosa in modi a mio avviso anche spesso molto piacevoli per cui quando tu puoi avere sul tuo computer l'equivalente la potenza che aveva soltanto uno studio di una compagnia discografica che aveva vent'anni fa ci sono delle possibilità molto interessanti che uno può fare musica distribuire musica con la stessa potenza che soltanto una casa discografica aveva questo è l'elemento liberatorio positivo l'altro elemento che purtroppo conta moltissimo e forse di più è che ci sono credo 5 o 6 compagnie che controllano il 90% della musica pubblicata nel mondo per cui da una parte le nuove tecnologie ci rendono tutti editori ma gli editori che hanno veramente la capacità di arrivare in casa sua o in casa mia sono sempre di minor numero per cui c'è questo c'è questo altro paradosso a mio avviso molto forte chi vincerà il potere liberatorio di queste tecnologie o le forze del mercato che portano verso una maggior concentrazione non lo so spero il primo ma non giurerei io quello che abbiamo fatto tanto la ringrazio moltissimo grazie a voi